È importante dal punto di vista simbolico, è importante l'incontro, l'incontro intanto in sé tra la Megabox e Bergamo, l'incontro dell'incontrarsi ovviamente perché sono non solo due squadre ma due città, due comunità, una che ha appena vissuto il viaggio straordinario della capitale della cultura e noi che ci apprestiamo a viverlo a 360 gradi a partire anche dallo sport che come abbiamo detto più volte non solo è cultura ma è cultura in particolar modo appesa, la cultura dello sport e di incontrarsi e di stare insieme. In più in questa giornata così importante che tra l'altro anche coincide con l'Epifania e saranno anche molti momenti, tutto sarà oltre allo spettacolo dello sport, sarà uno spettacolo realizzato e costruito proprio sulla giornata dedicato non solo ai più piccoli ma insomma dove sarà tanta musica con Cari Savichi, con Intermezzi e soprattutto ci sarà anche una finestra RAI importante in cui oltre alla partita per 10 minuti potremo raccontare la capitale, Bergamo racconterà se stessa e si creerà questo ponte naturale quindi siamo molto contenti di questa opportunità per cui vogliamo ringraziare innanzitutto la Megabox e il suo presidente e anche la banca di Pesaro che è vicino a questa iniziativa. Pesaro 2024 è la banca di Pesaro che necessariamente deve partecipare a questo evento ed è anche noi di essere parte dei protagonisti. Non si può partire che meglio parlando di sport, parlando di uno sport che sta prendendo sempre più piede, sta prendendo sempre più interesse da parte della città e soprattutto gestito da persone veramente serie. Poi penso che anche a livello sportivo la squadra vada discretamente bene quindi noi non possiamo il tre che essere contenti. Però l'importante è quello che dico che quest'anno è veramente un anno importante e soprattutto un anno economico importante. Veniamo da anni abbastanza difficili dovuti prima ad un evento purtroppo sanitario importante, poi ci sono stati anche degli eventi macroeconomici che hanno segnato in maniera importante la vita economica del paese. Comunque ancora una volta si è visto che l'Italia funziona e soprattutto il nostro territorio dove noi operiamo funziona veramente bene. Attraverso questa manifestazione sportiva noi vogliamo dare un segnale di attaccamento al territorio e quindi abbiamo organizzato questo evento per far sì che comunque diamo il nostro piccolo contributo a Pesaro e alla conoscenza dell'evento che avrà a disposizione per il 2024 per farsi conoscere a tutto il mondo intero. Sicuramente lo sport in questo momento, voglio parlare del mio sport, della mia passione al paravolo, penso che sia un valore aggiunto alla formazione dei giovani e rispetto, ma anche non solo dei giovani, ma anche di chi ci viene a vedere perché comunque non ho mai visto una partita di pallavolo che degeneri tra il pubblico e i spettatori. Questo ci tengo a dirlo che comunque il nostro sport è uno sport sano e ne sono entusiasta di farne parte. La vicinanza al territorio per noi è proprio il nostro cavallo di battaglia perché una banca, una BCC, una banca del territorio deve presidiare il proprio territorio, farlo crescere, dare i propri servizi, essere a fianco alle famiglie, alle imprese, quindi è un territorio per noi molto importante, quello di Pesaro, Vallefoglia, i comuni limitrofi, sono i comuni in cui la banca opera e di conseguenza sta crescendo, sta crescendo bene, siamo soddisfatti anche dell'annualità che abbiamo appena chiuso. Ovviamente una banca del territorio non fa dividendi e di conseguenza deve riversare buona parte, a parte accantonare a patrimonio perché se non si patrimonializza non riesce poi a fare le proprie attività, ma una parte consistente viene sempre devoluta in beneficenza, in sponsorizzazioni, in attività per il territorio, di conseguenza è un territorio che cresce, fa crescere anche la banca in cui opera. Come nello sport e poi quest'anno con Pesaro, Città della Cultura, un anno importante, cercheremo di essere, a parte che saremo partner di questa bellissima iniziativa, di cui diamo merito all'amministrazione comunale per aver ottenuto questo importante riconoscimento e questa annualità sarà per noi sfidante e saremo pronti ad accogliere questa sfida nel migliore dei modi.